Ci pensa Genchi, dagli 11 metri, in pieno recupero, regalare la gioia dei tre punti al Molfetta. Al Paolo Poli la formazione di Mr. Bartoli batte per una rete a zero il Rotonda al termine di una partita dominata dai pugliesi e condita da tante occasioni non concretizzate. Match da dimenticare su Sponda Lucana dopo due vittorie consecutive. Passano 5 minuti e Guadaluppi ci prova subito da fuori. Polizzi blocca al sesto e Gionai a concludere in porta. L'estremo difensore Lucano para in due tempi. Positivo l'avvio dei padroni di casa. Al quindicesimo schema da corner Gionai perde gol che prova la volè, sfera alta. Un minuto dopo si fa vedere Pozzebon di testa. Nulla di fatto dopo il cross di Colella. Al ventesimo azione corale del Molfetta. Colella ancora per Pozzebon. Conclusione palla deviata dalla difesa del Rotonda. Lucani che non riescono a reagire. Al venticinquesimo Gionai ci prova su punizione. Polizzi è attento. Sulla ribattuta arriva Guadaluppi, palla alta. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta al trentaduesimo. Conclusione di Rotella. Viola blocca. Prima dell'intervallo al quarantacinquesimo Gionai riceve palla da Colella. Controllo spalla la porta e rovesciata. Poderosa la sfera però esce sul fondo di poco. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. La ripresa si apre sempre nel segno del Molfetta. Al quindicesimo Giambuzzi conclude a giro. Palla al lato di poco. Al diciannovesimo protagonista. Ancora all'esterno con la maglia numero 89 che trova in aria Cappiello. Clamorosa occasione fallita dall'attaccante Biancorosso. La partita già non semplice per il Rotonda. Si complica ulteriormente al venticinquesimo. Doppio giallo per Cesai. Lucani in dieci uomini. Il Molfetta prova ad approfittarne subito contro Aure. Conclusione alta da buona posizione. Al ventottesimo Pozzebonco. La sua zampata trova solo l'esterno della rete. Porta che sembra davvero stregata per i padroni di casa. Al trentaduesimo l'incornata di Gionai. Trova la risposta di Polizzi che si rifugia in angolo. Partita che sembra scivolare sullo 0-0. Poi in pieno recupero. Sanzone commette fallo su Gionai. Il direttore di gara indica il dischetto del rigore. E' il quarantottesimo quando Genchi spiazza Polizzi. E fa esultare il Paolo Poli. Il Rotonda prova il tiro della disperazione al quarantanovesimo. Con Valenti palla fuori. Finisce qui. Molfetta che sale a 39 punti in classifica. E si mette al riparo. Lucani di mister Catalano in zona rossa. Ma ancora aggrappati alla salvezza diretta. Si torna in campo fra due settimane.